Oggi abbiamo una Fiat 500 del 2009 e andremo a vedere come è possibile sostituire il vetro dello specchietto laterale retrovisore con uno nuovo che ho pagato solo 8 euro. Non ci serve nessuno strumento particolare, vediamo. Come prima operazione andiamo a spostare lo specchietto completamente verso l'interno e completamente verso il basso, proprio per permetterci di inserire le mani al di sopra. Andiamo quindi a inserire le nostre mani dietro e se non dovesse venire via in questa maniera prendiamo un cacciavite che magari è presente nel baule dell'auto e andiamo ad alzare la levetta che vediamo dietro lo specchio. Una volta alzata la levetta, in questa maniera, lo specchietto viene via. La levetta è questa qui. Andiamo a porre il nostro cacciavite dietro, la alziamo e tiriamo e lui viene via. Adesso stacchiamo questi due fastone presenti che sono quelli della resistenza che permette di scaldare il nostro vetro riponiamo lo specchietto vecchio prendiamo quello nuovo e andiamo a collegare i due cavi uno e due ci assicuriamo che essi siano completamente inseriti e poi, semplicemente, facendo pressione andiamo a centrare lo specchio e a fare una leggera pressione per inserire il nuovo specchietto e voilà adesso lo possiamo riposizionare nella sua posizione iniziale e abbiamo il nostro specchietto come nuovo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti